Buonasera e benvenuti allo stadio comunale di Belinzago. Questa sera assisteremo alla gara del primo turno di ritorno di Coppa Italia Promozione Premonte tra Bule Belinzago e Chiavazzese. Le formazioni in campo. Per il Bule Belinzago, numero 1 Lorenzo, numero 2 De Felici, numero 22 Tuveri, numero 4 Guarandi, numero 5 Rogora, numero 6 Tessitore, numero 7 Buccolini, numero 8 Maizza, numero 9 Legrello, numero 10 Repossini, numero 11 Campra a disposizione con il numero 12 Puglielli, con il numero 13 Orlando, con il numero 14 Cervizi, con il numero 15 Stangalino, con il numero 16 Pasquino, con il numero 17 Mangolini, con il numero 18 Mostoni e con il numero 21 Alinatore, il signor Palazzi. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. La Chiavazzese sostituisce il numero 8 Scardoni con il numero 19 Secca. La Chiavazzese sostituisce il numero 3 Corniati con il numero 13 di Curi. La Chiavazzese sostituisce il numero 14 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 di Curi.